eccoci qui o meglio rieccoci come è stato un saluto a tutti vi ricordo come sempre di commentare numerosi con il vostro punto di vista di lasciare un like e di iscrivervi da questa parte se siete dei cuori rossoneri sto vedendo un po ci sono un po gli interisti che continuano a venire qui soprattutto in questi giorni prima uno diceva come fai a dire che tu rami un buon giocatore è un fenomeno si vede che non capisci di calcio se dici così oppure sei in mala fede ora ho detto ma non è che la verità in tasca ce l'ho io non ce l'hai tu non ce l'ha nessuno è un parere ora dire che un grandissimo giocatore turam non lo dicevo neanche quando era un passo dal Milan per me è un buon giocatore che può esplodere o può rimanere di quella categoria lì a parametro zero comunque i club della premier e altri club che possono prendere giocatori così forti non l'hanno preso e viene in italia che oggi è un campionato un po più ridimensionato rispetto agli altri ripeto per me è un buon giocatore un buonissimo giocatore ma non di più oggi poi magari lo diventerà e sì adesso ovviamente si pigliano gli sfottò è giusto li prendiamo gli abbiamo dati e qualcuno diceva dopo la vittoria del Manchester City ma no perché figurati bisogna bisogna prendersi in giro va bene adesso lo accettiamo anche se questo è un canale di riferimento rosso e nero e potete stare anche a casa vostra quindi interisti grazie milanisti fatevi avanti iscrivetevi vediamo quanti milanisti ci sono dietro questo video diretto a questo schermo chi non si iscrive ti fa la seconda squadra di Milano vediamo quanti rossoneri ecco poi come dico sempre in qualsiasi cosa il cavallo vincente lo si vede al traguardo hanno vinto una sfida per un giocatore per il quale ribadisco dal punto di vista di campo tecnico non mi strappo i capelli quindi da un punto di vista economico finanziario e di immagine invece non è stata una bella vicenda poi il campo dirà se Turam è un giocatore irresistibile oppure no oppure se riusciremo a prendere qualcosa di meglio del quale adesso parliamo intanto abbiamo spuntato sulla futura rivendita da parte di Newcastle di Tonali il 10% quindi che ne so dovessero vendere un domani Tonali a 120 milioni di euro incasseremo 12 milioni oppure dovessimo comprare un domani Tonali e ricomprarcelo avremo il 10% di sconto ecco chissà che magari non possa tornare detto che l'ufficialità non arriverà né oggi né domani arriverà settimana prossima quando il Milan avrà più non dico nel mirino avrà realizzato un colpo anche per annunciare va via Tonali ma arriva qualcuno come sempre accade vedremo se questo qualcuno sarà frattesi oppure no intanto oggi ha parlato a proposito Tonali questa descrizione che sta emergendo poi ci sono due campane ognuno interessa raccontare la propria versione secondo una versione ambito giocatore quando ha saputo che il Milan ascoltava le offerte per lui da parte di Newcastle pare che Tonali sia scoppiato a piangere questa è una versione poi c'è l'altra versione che invece racconta che è il giocatore che voleva andare via magari la verità sta in mezzo in questo caso sto un po' più da questa parte per quello che risulta a me non so le lacrime, è stato scritto da Repubblica in ogni caso non era intenzione iniziale del giocatore andare via ma strada facendo vedendo che il Milan era disponibile a farlo partire le cose sono cambiate anche per lui per quello che risulta a me poi la verità la sanno soltanto quella vera chi l'ha vissuta cioè Tonali il suo entourage e il Milan stesso e Newcastle più Milan e entourage però si racconta di un Tonali in lacrime quando ha capito potete crederci oppure no ha detto che a questo punto bisogna anche guardare avanti ovviamente e a proposito di guardare avanti oggi De Ketelare ha parlato della sua esperienza nell'andereventura del Belgio ha detto che potrebbe essere vera la teoria del ketchup o del ketchup lo sapete? cioè sapete come il barattolo del ketchup tu schiacci, non esce niente non esce niente poi schiacci bene esce tutto tradotto quando faccio un gol poi non smetto di farne lui si augura che possa essere verità a questa versione e vedremo se riuscirà a farlo anche con il Belgio nel frattempo sarebbe importante anche perché il Milan lo ha messo sul mercato che che ne dica Tom Demul che è il suo agente il Milan spera che lui possa fare un ottimo europeo under 21 così che abbia più facilità a piazzare il giocatore in entrata ci sono diversi profili Kamada che è in stand by Samarzic c'è poi Arda Güler profilo turco baby fenomeno 18 anni che piace molto 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 al Milan che continua a lavorare per cercare di portarselo a Milanello vediamo se la teoria del ketchup sarà giusta oppure no a proposito poi di Inter c'è un altro inserimento e poi veniamo al sostituto di Turam chiamiamolo così c'è un nuovo inserimento dell'Inter che sta provando a fare la voce grossa l'ha fatta la genesi è il Milan che sonda Lukaku l'Inter torna su Turam Milan poi vuole prendere frattesi questo ovviamente antecedente e adesso l'Inter prova a portarsi a casa Luca Romero giocatore che il Milan ha trattato e stava trattando 18enne della Lazio 19 anni a novembre l'Argentino ha alto 1,65 un gol in 6 partite quest'anno con la Lazio giocatore non trascendentale però a 18 anni si parlava di lui molto bene in Argentina un paio di anni fa alla Lazio non è riuscito ad affermarsi giocatore in scadenza quindi parametro 0 che il Milan ha lì aspettato a chiudere in attesa di capire altre situazioni adesso c'è l'inserimento dell'Inter che potrebbe soffiare Luca Romero al Milan poi anche qui non mi dispiacerebbe forse da un punto di vista tecnico da un punto di vista di possibile plusvalenza sì perché Romero comunque a 18 anni se lo prendi a 0 tra un paio d'anni magari lo puoi vendere a 6-7 milioni di euro o magari anche 10 e fai una plusvalenza però ecco siamo ai dispetti di mercato siamo a uno scontro totale siamo a colpi bassi da una parte dall'altra e fin qui purtroppo purtroppo sono loro avanti 1-0 per Turan io spero di fare il pareggio su Frattesi che per me vale più di un gol su Romero direi vabbè e poi c'è il discorso Lukaku del quale parlavamo anche prima Romero giocatore della Lazio più occasione di fare plusvalenza un domani che al momento grande valore tecnico però ecco all'Inter non interessava l'Inter adesso vuole fare dispetti e vediamo chi la vince sicuramente l'esperienza di Marotta e Ausilio in questa fase sta facendo un po' la differenza proseguendo in questo video andiamo poi a aggiornare ovviamente anche sul resto delle trattative detto che per Arda Guller il Milan ripeto sta lavorando continuamente senza sosta così ci dicono vedremo se se lo porta a casa oppure no per me è un giocatore davvero forte seppur sia molto giovane e poi per quanto riguarda il centrocampo risultano nuovi contatti con il Lecce per quanto riguarda Juhlmann sul quale ci sono club tedeschi si parla di Dortmund ma non solo sul quale c'è la Roma e sul quale c'è anche il Milan che deve decidere un po' come spendere questi 70 milioni di euro arrivati da Tonali per prendere tre centrocampisti ne servono tre vediamo su frattesi come va a finire vediamo con Juhlmann come va a finire e poi ovviamente ci sono i vari Loftus-Cic Samarzic Cukwemek eccetera eccetera dobbiamo fare tante cose ormai volge al termine questo giugno fin qui nerissimo per tutto quello che è accaduto capitolo attaccante in questo momento abbiamo solo Giroud Ibra ha smesso e poi insomma Giroud scala in seconda posizione come numero 9 Origi è ancora lì ma al Milan non pensa più a lui come numero 9 lo vuole piazzare altrimenti potrebbe essere il vice Leao Turam è andato ripeto io lo sarei fatto andare bene soprattutto per un discorso economico avrei apprezzato soprattutto il discorso economico ora bisogna avere delle idee alternative ovviamente è chiaro che se devi spendere poco o cambi linee guide quindi spendi per il 9 non spendi per altri reparti a meno che tu non fai altre sessioni oppure devi trovare anche qui soluzioni vantaggiose di Scamacca abbiamo detto ragazzi ma già Luca Scamacca poi veniamo agli altri nomi Luca Scamacca non dispiace ha 24 anni ha due anni in meno rispetto a Turam l'abbiamo già visto in Italia alto 1,95 una punta di riferimento alla Giroud giocatore italiano utile per questione liste quest'anno ha fatto in totale 8 reti in 27 gare con l'West Ham una retta ogni 168 minuti non male comunque lui che ha fatto 11 gare senza gol nella nazionale italiana comunque lui è uno crediamo che anche Turam abbia fatto poco con la nazionale francese poi verifico è uno che l'ultima stagione in Serie A ha fatto 16 reti in 36 partite ecco dividendole poi con Frattesi scusate con con Berardi e con Raspadori in quell'annata non è il nome che ti cambia la vita il West Ham vorrebbe monetizzare attenzione perché si potrebbe pensare anche a un ritorno di fiamma con Origi che interessava al West Ham ecco Turam Francia 10 partite 0 gol stessa situazione tra i due è più Bomber sicuramente Scamacca che non è quello che ti cambia la vita e può difficilmente magari esplode la forza fisica l'esuberanza la velocità di Turam sicuramente sono caratteristiche importanti di Turam di Gianluca Scamacca abbiamo detto però risulta un po' nata ieri un'idea Morata poi abbiamo raggiunto il suo entourage vi dico che cosa ha risposto Morata ha 30 anni ne farà 31 ottobre spagnolo alto 189 scadenza tra un anno con l'Atletico Madrid quest'anno lui invece è uno che con la Spagna ha fatto 30 gol in 64 partite è uno che ha 13 gole e due assist quest'anno in 36 partite di Liga anche lui non è un grandissimo bomber ha grande esperienza però ha 31 anni devi pagare comunque il cartellino e l'ingaggio non è basso è vero che c'è il decreto crescita in questo senso ecco verifica fatta poco fa con il suo entourage che un mese e mezzo fa l'aveva accostato al Milan per volontà della famiglia soprattutto della moglie che vorrebbe tornare a vivere in Italia con base a Torino visto che la famiglia è di Torino al momento ci dicono vero oppure no che non ci sono stati contatti ripeto sottolineano al momento personalmente ecco Morata mi sembra l'idea di quelli che chebrancolano un po' nel buio nel senso che passi da Turama Morata non lo so pur essendo un ottimo giocatore è uno che ha esperienze che segna che può abbinarsi anche a Giroud però però insomma l'età il costo non lo so paradossalmente seppur meno pronto oggi preferirei Scamacca ad abbinare a Giroud come caratteristiche vediamo che cosa succede un'altra campanella invece mi dice che invece nelle ultime ore dopo che hanno offragato la pista Turama sono molto le telefonate che sta ricevendo Moncada per offerte e qualcuno mi dice che in realtà l'entourage che agitamentisce avrebbe offerto nella serata di ieri Morata al Milan giocatore che è forte però ha 31 anni non lo so qualche perplessità sinceramente io ce l'ho questa dunque la situazione in questo momento ci sono questi due nomi pare non esserci un ritorno di fiamma per i vari UAE OpenDA al momento il Milan vorrebbe una soluzione al momento senza pagare troppo l'attaccante e lo so ragazzi nel sondaggio che avevo fatto sulla community preferireste Scamacca o Turam l'80% aveva detto Turam oggi situazione un po' ingarbugliata un po' complicata effettivamente che deve svilupparsi in qualche modo attenzione perché ci sono stati nuovi contatti anche con la Salernitana per Gabbia per Adli per Brescianini per Maldini ci sono tanti giocatori richiesti è chiaro che noi dobbiamo stare attenti a questioni e liste e ribadisco il nome che piace molto al Milan è quello di Mazzocchi che può arrivare con un piccolo conguaglio più uno di questi giocatori che andrebbe a giocare nella Salernitana con Paolo Sosa che chiede continua a chiedere il suo ex giocatore allenato al Bordeaux Adli vediamo che cosa succede ragazzi e cerchiamo di di darci una mossa anche per una considerazione generale per l'umore che oggi è abbastanza sottoterra ecco cerchiamo di risollevarci un po' ovviamente dipende da quello che fa la proprietà la dirigenza in questo momento intimi cosa ne pensate su Tonali quale credete sia la versione giusta credete la teoria del ketchup per decetelare di Romero se va all'inter vi dispiace oppure no e poi Scamacca Morata oggi che chi scegliereste io Scamacca o proponete anche altri giocatori alternativi scrivetemelo qui sotto mi raccomando commentate 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 e Mazzocchi secondo me sarebbe un ottimo per la fascia destra e sinistra dietro iscrivetevi qui chi non si iscrive ti fa la seconda squadra di Milano che anche se ha preso Turam resta oggi domani e resterà sempre la seconda squadra di Milano la faccia di chi viene qui a fare il fenomeno ma lo sfottò ci può stare vediamo quanti milanisti che si iscrivono e quanti interisti che non devono iscriversi un abbraccio vi rimando anche al video precedente in cui vi parlo di una clamorosa indiscrezione della Gazzetta dello Sport a proposito sempre di calcio mercato ciao ragazzi